questa mattina ho cercato a lungo di controllare in rete dei dati che mi interessavano nulla da fare l'indirizzo che avevo per l'italia era bloccato errore 104 insomma ho provato con poi con un vpn ma niente tutto era blindato successivamente sono passato a studiare un tema per cui dovevo registrare una trasmissione nel pomeriggio mi interessavano delle immagini precise relative alla visita di hitler in italia nel 1938 ma tutti i vecchi video dell'istituto luce che ho trovato su youtube dopo pochi minuti diventano completamente bianchi come se le immagini fossero state appositamente coperte da un lenzuolo per chi ha letto il mio le pagine strappate più o meno la stessa tecnica usata dalla censura del concilio di trento sui manoscritti antichi toppe incollate sui fogli pagine rimosse rigacce nere tirate qua e là senza alcun pudore sulle righe più scabrose e via di seguito ecco lo confesso l'impressione è stata terribile davvero terribile in almeno due occasioni nei giorni scorsi ho avuto poi a che fare con grandi o piccoli canali di informazione alternativa che mi hanno spiegato che le interviste che stavo rilasciando loro non sarebbero state pubblicate su youtube per evitar di venire colpiti dalla censura e vedersi chiudere il canale sono rimasto scioccato in pratica l'idea che sta passando sarebbe questa evitare di pubblicare per poter continuare a pubblicare un ragionamento paradossale letteralmente contraddittorio ma che per giunta rivela ormai una tale sudditanza nei confronti della censura dei social da portare a una sola conclusione possibile i social hanno vinto signori se smettiamo di diffondere quel che è più eclatante soltanto per non venir zittiti allora i social hanno vinto a questo punto la mia proposta è un'altra ed è diametralmente opposta pubblichiamo 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 propongo a tutti i canali di informazione alternativa o a tutti coloro che credono ancora nella verità di realizzare tutti insieme un video di fortissima denuncia nei confronti della censura di youtube per esempio un video in cui ognuno di noi racconti in due minuti la sua personale esperienza a quel punto propongo di pubblicarlo tutti insieme alla stessa identica ora ognuno sul proprio canale grande o piccolo raccomandando ai propri iscritti di scaricarselo subito e di ripubblicarlo ovunque ovunque proviamoci se vi va e chissà che questa cosa possa ottenere una risonanza tale da mettere un po in cattiva luce questi schifosi prepotenti e riesca magari anche a far capire loro che se siamo in tanti quelli di cui cominciare ad aver paura possiamo essere noi buonasera Grazie a tutti.